ciao a tutti sono marco mantovani volevo presentarvi villa di cazzano che questa nostra questa nostra casa struttura ricettiva con sette camere aperta due anni fa una una struttura attenta al territorio completamente ristrutturata e seguendo i canoni di gratitudine verso l'ambiente verso la casa stessa che ci ha donato dei bellissimi muri delle bellissime travi in legno scale in marmo quindi situazioni che abbiamo voluto mantenere in modo originale così come erano unito tutta ovviamente la modernità che ci consente anche di essere eco sostenibile compatibile nel miglior modo possibile per la produzione dell'acqua calda pannelli solari riscaldamento in parte anche a legna e tutta la struttura comunque coibentata e questo da un minore impatto ambientale tutto quello che viene proposto a colazione è biologico quasi tutto è vegano a parte un angolo vegetariano questa casa è stata sempre fonte di ospitalità e di condivisione anche nei tempi passati sia della nonna che della bisnonna e quindi noi abbiamo cercato di portarla appunto in forma più moderna e ci siamo poi anche certificati come struttura vegan ok perché questo amore per l'ambiente che ci circonda volevamo dimostrarlo anche ai nostri clienti tramite appunto questo messaggio che è molto forte e non è un messaggio commerciale perché comunque viene da una lunga storia di amore appunto verso gli animali verso la natura che abbiamo prima di tutto vissuto come famiglia e quindi visto che questa era la mia casa ed è la mia casa ho voluto condividere quello che è il mio sentire e quello che è stata la nostra storia personale infatti ci piace appunto che le persone che vengono qua si sentano a casa e possano sperimentare quello che noi abbiamo sperimentato e quello che noi cerchiamo di trasmettere quotidianamente ai nostri figli amore per gli animali amore per la natura quindi il cibo biologico cibo ecosostenibile ma anche amore per le persone e quindi quello che ci piace fare che a me piace personalmente ma anche a tante persone che qui stanno collaborando questo progetto olistico in cui si possa unire anche vari trattamenti alla persona varie tipologie degli equilibri energetici che possono dare quindi a 360 gradi un aiuto e un benessere per vivere al meglio in salute e in felicità questo nostro cammino terreno